ciao ragazzi scusate la pancia dopo tre mesi di fermo faccio fatica a mandarla giù ecco qua comunque la nuova la nuova canalina goddellin nuovo modello semplificato anziché quattro trappoline ho messo due solo due quindi ci sono solo due ganci e quattro viti da smontare molto semplice anche da anche da utilizzare da montare qui se vogliamo possiamo cambiare il tappetino mettere qualsiasi tipo che si vuole non c'è colla è fatta apposta praticamente anche qua si può smontare queste staff adesso vi mostro come come togliere per esempio il Menermos quando lo si vuole lavare ecco queste trappole qui a proposito non hanno bisogno di essere lavate dopo due ore dopo qualche secchio perché ci sono c'è un grande spazio un centimetro di trappole più un altro centimetro di Menermos in un materiale che si va a fermare veramente tanto a differenza dalle trappoline con i quadrotti piuttosto che i buchetti eccetera eccetera che si riempiono subito di magnetite comunque per smontare questo è molto semplice si fa questo qua si smolla non c'è bisogno di stringere tanto altrimenti le trappe formano una gobba quindi leggermente ecco questo qua viene via con il tutto il suo tappetino e idem questa qui non c'è bisogno di levare il fermo della rampa che serve per bloccare le righe che non ci interessa praticamente con il lavaggio e questo qui viene via anche questo qui ecco qua per montarlo praticamente una volta che si sciacqua c'è una canadina si fa la stessa operazione si mette sotto questa trappetina al centro qui state attenti che le trappole devono sempre essere due volte in giù ok anche qui si fa si prende fino a sotto si lascia mezzo si lascia in mezzo anche questo si porta qui si mette qui ok qui si dà una leggera passione non serve poi le trappole si si gonfiano quindi appena appena in modo che blocca e qui le tiriamo giù facciamo girare questi perni puntiamo appena appena non c'è bisogno di chiavi ok non c'è bisogno di chiavi ed ecco qua la canadina è stata montata e rimontata in qualche minuto stupenda il peso è sui tre chili tre chili e mezzo ciao ragazzi